ciao a tutti amici del laboratorio artistico io sono carla oggi faremo un bellissimo biglietto tema autunnale con l'iris folding io ho questa matrice con la foglia di quercia che potete trovare nei contenuti gratuiti sul mio sito questo è un cartoncino marrone che io ho già tagliato in misura e piegato in tre dovete prendere la misura di un biglietto del biglietto d'auguri che voi volete fare e poi considerare una piega in più perché vogliamo rifinirlo anche all'interno posizionate la vostra foglia e fate il contorno con una matita dobbiamo poi andare a tagliare questo contorno con un taglierino questo tipo di attività non è tanto adatta ai bambini piccoli perché dovremmo usare il taglierino dobbiamo avere una manualità abbastanza sviluppata quindi non è un progetto proprio semplicissimo quindi se volete farlo con i bambini andate a vedere magari sul mio sito o sul canale youtube o su facebook ci sono altri video che potete vedere sulla risfolding compreso uno facilissimo che potete mettere in pratica anche con i bimbi più piccoli allora come vedete io ho fatto la mia finestra forma di foglia di quercia adesso sul retro giro la foglia la matrice e la fermo con un po' di scoccia di carta adesso io ho bisogno della carta colorata che mi servirà per riempire questa finestrella io voglio utilizzare questa carta delle pubblicità che si trovano sempre in buca scelgo dei colori autunnali qui ho una bella bistecca che ha delle tonalità che mi piacciono tantissimo e quindi li utilizzo, taglio queste striscioline dovete tenere presente che dobbiamo riempire ogni porzione che vedete nella matrice con una strisciolina piegata in due quindi tagliatele più grandi di quello che vi serve in realtà perché poi dovrete piegarle facciamo striscioline in quattro colori diversi e poi andiamo a piegarle a metà e a fissarle con dello scotch trasparente seguendo i numeretti che vedete scritti nella matrice quindi parto dall'uno, poi fisso, cambio colore e vado a fissare il numero 2 sempre piegando a metà la strisciolina e procedo così, cambio colore ancora fisso il numero 3 piegandolo a metà e poi andrò a fissare il numero 4 con il quarto colore che mi serve poi procedo così, 5, 6, 7, 8 io qui ho tagliato le striscioline troppo piccole quindi mi tocca piegarne una in maniera un po' strana comunque voi cercate di tagliare le striscioline un po' abbondanti in modo da non faticare come sto facendo io adesso poi dopo il primo giro riprendete il colore iniziale quindi il colore numero 1 diciamo così la fantasia numero 1 e conseguite sempre la numerazione quindi 5, 6, 7, 8 e via così fissandoli uno per volta con un po' di pazienza sul retro del nostro biglietto questo tipo di lavoro non è difficile però ci vuole un pochino di concentrazione perché se sbagliamo colore se li fissiamo male ovviamente non verrà un buon risultato io procedo, li fisso tutti e vado avanti fino alla fine lasciando per il momento vuoto il buco centrale quando ho posizionato tutto con attenzione viene la parte più divertente e cioè giro il mio biglietto e tolgo la matrice in modo da vedere dall'altra parte che cosa è venuto fuori ecco qua ed ecco qua il mio bellissimo biglietto d'autunno adesso la mia foglia è pronta devo soltanto più riempire il buco centrale poi piegherò in questo modo andrò a fissare la parte interna cioè il retro della foglia con un po' di colla stick perché non voglio che aprendo il biglietto si veda il retro per il centro io voglio questo bellissimo rosso delle offerte speciali del supermercato quindi ritaglio e lo fisso sul retro prima di incollare con l'aprita andrò a togliere questo pezzettino che si vede che sborda un pochino lo taglio con le forbici poi incollo e avrò il mio biglietto perfetto buona arte a tutti a tutti